Ancer Giocattoli e Mega Toys Ancer, il punto di riferimento ideale per far felici i più piccoli. Ancer lo puoi trovare a Catanzaro, in piazza Serravalle 14, in via Mario Greco 201. E a Faroleto Antico incontrata a Garrubba, nei pressi del parco commerciale Due Mari. Da Ancer puoi trovare tutte le migliori marche, un vasto assortimento di giocattoli e tutto per la prima infanzia. Porta i tuoi bambini a visitare le nostre esposizioni, sarà per loro un'esperienza indimenticabile. Sarà interessante sapere cosa pensano i sindaci a tutte le latitudini, perché per la prima volta una materia di bilancio non è stata esaminata dalla magistratura contabile deputata a questo, ma è stata portata in un'aula penale. E questa materia oggi potrebbe portare i sindaci a fare delle considerazioni anche di gatto reclamoroso, perché su quella materia del bilancio l'impatto su tutti i comuni sarebbe devastante. Tutti i comuni sarebbero in default dovendo ripulire i bilanci dai residui passivi, per esempio. È una materia tecnica, però vedrà che questa sentenza avrà delle ripercussioni per chi è chiamato dal Ministro degli Enti Locali. Lei è stato l'ultimo sindaco di Reggio Colabria prima dello scioglimento, ma non aveva mai notato niente? Lei parla di materia contabile come se si dovesse parlare di un romanzo o di un fatto di gossip. E la materia contabile sono numeri, è tecnica. E le posso garantire che i bilanci di tutte le amministrazioni locali presentano dei problemi tecnici che vanno affrontati dal legislatore e dalla giustizia contabile, non da quella penale. I consulenti della procura però parlarono di un buco di 87 milioni di euro. Ma tant'è lei fa riferimento a quando io ero sindaco, io ho presi tutti i rilievi fatti dagli ispettori e li ho tradotti sul bilancio e ho chiuso il bilancio in deficit, proprio in virtù di quei rilievi fatti. Quindi questo sarà il problema da dover affrontare oggi rispetto a questa sentenza da un punto di vista tecnico. Grazie 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 Grazie